Ci siamo, 10 secondi. Questo o questo? Quattro. Uno. Cinque. Sei. Sette. Nove. Dieci. Unici. Unici. Dove. Treniti. Quattrini. Sette. Sette. Quinti. Sette. Sette. 16 17 18 19 20 22 22 Mariale 3 24 25 25 26 27 28 29 30 30 Trava Anna, vai! 60 32 30 30 30 30 30 30 10 secondi al cambio, forza, resisti, Anna. 30 secondi al cambio, forza, resisti, Anna. 40 41 42 dai 43 44 45 46 47 bravissima 48 49 50 2 minuti bravissima dai non lasciate andare vai 5 50 vedi ah beh c'è no 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 eh oh zio ma la fa anche in palestra mica le dico, fai 30 secondi in più ma anche l'ho vista molto tecnico anche lui si, brava ma ne vado più vai Anna spalla dietro 10 11 112 la sala eh 4 sei stata brava sei stata brava 56 52 52 52 ma è stata brava l'ho distratta io però non pensavo che non ci fossi dai che è finito 40 secondi tre respirazioni 1 2 3 1 2 2 3 2 3 3 34 brava brava così quasi venti al minuto 3